Ciao a tutti amici di Backstage, io sono Lucia Stone, vengo da Padova, sono mezza americana ho 27 anni e oggi suonerò qui alla scuola superiore del Polo Bianciardi di Grosseto e farò un programma per sola arpa suonando il concerto di Endel nella versione di Gran Janie la fantasia in do minore di Luis Por, sarà banda toccata di Nino Rota e alcune sonate di Scarlatti vediamo se sarà anche il caso di aggiungere un mio pezzo personale molto caro, ma a me è caro insomma che è una trascrizione che ho fatto un paio d'anni fa da un pezzo di un autore per l'Iuto ho studiato a Padova, mi sono diplomata e dopodiché sono andata a studiare a Londra con Gabriella Dall'Olio e ho continuato con il master a Monaco di Baviera con Cristina Bianchi ho finito a luglio quindi adesso spero di riuscire a entrare nel mondo del lavoro e magari in orchestra o comunque insegnando e continuare a fare dell'arpa che è la mia passione, il mio lavoro e la mia vita grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie a tutti. 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 a tutti.